Sai ascoltare? Ciao, sono Marco e benvenuto nel mio canale. Oggi ti parlerò dell'ascolto. Un senso che spesso, come la vista, viene sopravvalutato. Perché ti dico questo? Perché purtroppo tantissime persone non ascoltano. Cioè, il suono gli arriva e viene elaborato dal cervello e quindi gli arriva. Ma non ascoltano. Quindi gli arriva un suono e loro hanno la testa piena di pensieri e di conseguenza non danno la giusta attenzione a quello che dici. Lo vedo molto molto spesso. Già siamo parte di un mondo molto distraente. Ci distraiamo con i social, ci distraiamo con la televisione, ci distraiamo per tutto. E io lo vedo anche con il mio lavoro offline, che le persone praticamente non leggono, non sono attente e quindi spesso non ascoltano. Quando io gli dico determinate cose, loro dopo non mi ascoltano. Perché quando poi io faccio il cameriere come lavoro e quando io vado al tavolino e gli spiego cosa c'è, la maggior parte delle volte dicono ok, va bene, ho capito e poi magari dopo mi richiamano perché pensavano di aver capito e in realtà non hanno capito. Perché? Perché semplicemente quando le persone parlano, più delle volte la nostra testa comincia a elaborare. Non so se ti è mai capitato anche a te, no? Di parlare con un amico o con un'amica e quando questa persona comincia a parlare ti già cominci già a elaborare le risposte. Succede in maniera automatica. Perché? Perché siamo abituati così. Non siamo abituati ad ascoltare le persone veramente. E quando la persona parla te già in testa fai ok, ora appena finisci di parlare devo dirgli questa cosa poi devo rispondere a quest'altra o spesso interrompi perché poi magari ti dimentichi quello che c'è in mente l'idea che è venuta interrompi la persona mentre sta parlando e dici la tua poi lei fa uguale e diventa un canaio. Quindi tutto per dirti che ho due semplici esercizi da proporti per far sì col tempo piano piano di migliorare e di cominciare ad ascoltare veramente le persone. Perché sembra una cavolata ma ascoltando veramente le persone ascoltando le singole parole delle persone riusciremo a capirle meglio perché noi esponiamo con le parole i nostri pensieri ed ogni parola ha un significato molto importante quindi dire che ne so una parola rispetto ad un'altra dire fai schifo o dire non mi piaci è differente perché fai schifo è dispregiativo e quindi è in sé carica magari del malumore della cattiveria di quella persona non mi piaci è più una persona che identifica che visualizza da lontano che ti tiene d'occhio e comunque è un consiglio creativo quindi ogni parola ha il suo peso ed è molto importante capire questo quindi ora ti darò due esercizi secondo la mia esperienza per imparare a stare più attenti più che altro ad ascoltare una precisazione ognuno di noi dato che siamo unici vede il mondo trabano ognuno di noi ognuno di noi vede il mondo attraverso i propri filtri e lo sente attraverso i propri filtri lo gusta attraverso i propri filtri e lo annusa attraverso i propri filtri tutti i cinque sensi vengono diciamo filtrati dai nostri filtri dalle nostre esperienze quindi classico esempio montagne russe c'è chi ride c'è chi piange dalla gioia e c'è chi ha paura perché uno dirà ma come mai uno ride uno piange perché passa attraverso i suoi filtri quindi una persona magari può aver avuto un trauma non so da piccino o roba varia e magari quel tipo di di attrazione cioè la montagna russa gli dannoia magari altre persone non hanno avuto nulla e quella montagna russa gli piace e così per tutto in amore al lavoro nei film qualsiasi cosa in cucina qualsiasi cosa quante volte vi è capitato a voi di assaggiare un piatto e la mente arriva a quel momento lì magari un momento piacevole magari per altri un momento non piacevole e via dicendo questa premessa è per farti capire che tutto quello che fai è tutto circolato dai tuoi filtri dalle tue credenze e anche ascoltare fa parte di questo perché tante volte quando ascoltiamo una persona già ci crescono dentro di noi i pregiudizi già giudichiamo quella persona a seconda di quella che dice senza nemmeno fargli finire la frase quando in realtà è molto importante fargli finire la frase e guardare il contesto di quella persona mi raccomando è veramente importante un piccolo passo al giorno comincia piano piano a fare questi esercizi che ti dirò e verrai le cose miglioreranno perlomeno per me sono migliorate tantissimo e sono diventato un buonissimo ascoltatore anzi mi piace veramente tanto ascoltare e andiamo al primo esercizio il primo esercizio è ascoltare in modo obiettivo cosa vuol dire è molto semplice ma è semplicissimo non so se ti è mai capitato magari di ascoltare per la prima volta un discorso o una canzone e di ripeterlo in testa è un'abilità stranissima che io non mi sono mai non ho mai capito però noi riusciamo a ripetere in testa in contemporanea i testi o comunque le parole i discorsi che non conosciamo anche in altre lingue quindi devi utilizzare la solita tecnica per la persona che ascolti quindi quando una persona comincia a parlare ti ripeti mentalmente concentrato o concentrata quello che dice ok? come se tu dovessi ricopiare in testa il discorso che fa questa focus ti mette sull'attenzione delle parole di questa persona e ti dà la possibilità di non riempirti la testa di già risposte o giudizi o tutto quello che riguarda la sfera personale di una persona quindi quando una persona parla ripeti in testa tutto quello che dice in modo tale che a fine discorso avrai accumulato tutte le informazioni che vorrai non lo interromperai quindi non sarai maleducato e così potrai dargli una risposta più obiettiva più sincera perché spesso quando una persona parla collega vari punti ma poi alla fine il succo è sempre uno quindi è più bello uno fa più bella figura a te perché ti vedi interessato seconda cosa la persona parla molto più volentieri magari si può aprire di più e terza cosa riesce a dare una risposta più obiettiva e sincera facendo un riassunto di quello che la persona ti ha detto la seconda su un esercizio da fare è l'osservazione obiettiva cosa vuol dire allora puoi farlo con una persona anche da solo se hai una persona accanto a te un amico un partner un genitore quello che è devi fare questo esercizio molto particolare però devi essere obiettivo e sincero quindi prendi una persona e cominci a descriverla fisicamente ma non senza giudizio cioè che ne so Carla ha allora ha i capelli rossi lunghi fino alla schiena facendo un esempio ha gli occhi azzurri ma non devi dire hai dei bei occhi azzurri devi dire hai occhi azzurri non ci devi mettere giudizio capito devi essere obiettivo su quello che vedi quindi hai degli occhi azzurri hai il naso rotondo hai le guance rotonde che so hai denti dritti hai le mani piccole le spalle piccole le curve ecco devi essere obiettivo come quando scrivi una macchina la macchina la guardi e dice qua cerchi in lega carrozzeria che so color rosso e via dicendo obiettivo senza giudizio non devi dire è una bella macchina mi piace figa no obiettivo lo fai con un'altra persona l'altra persona a sua volta lo fa con te e poi dopo lo fai da sola allo specchio questo ti serve a 1 essere sempre obiettivo e a levare giudizio e di conseguenza a sapere ascoltare meglio le altre persone perché quando una persona ti parla devi essere obiettivo e devi levare giudizio perché la tua risposta deve essere sincera prima cosa seconda cosa molto importante ti dà una visualizzazione diversa da un altro angolo e quindi tutto quello che vedi lo vedi per quello che veramente è questo esercizio ti servirà anche nella vita se levi il giudizio e levi tutti i pensieri che i giudicanti della tua testa vedrai le cose per come veramente sono ok quindi fallo con una persona e la tua persona deve farlo con te e seconda cosa fallo allo specchio importante ti metti davanti allo specchio devi essere obiettivo allora mi chiamo Marco ho il naso un po' a patata non ho ho un po' di stempiature poi fisicamente sono muscoloso e via dicendo fatevi sempre del cavolo ok sono alto metri 75 e bla 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 ok facendolo spesso questa cosa instauri un buon rapporto con te stesso quello che la maggior parte di persone non fa mai ti accetti per quello che sei perché sei obiettivo ok poi si dirà delle cose le migliori però sei obiettivo e sei molto più attento quando una persona parla sei molto più attento ok questo è molto importante e ci tenevo stamane a dirtelo perché è un'illuminazione che mi è venuta ieri e ho detto cacchio appena posso faccio subito un video e lo mando sul canale quindi importante primo esercizio praticamente ripetere mentalmente quello che l'altra persona dice in modo tale da essere presente da non essere distratto da non farsi riempire la testa di pensieri e di poter riassumere tutto quello che dice e dare una risposta sincera seconda cosa obiettività quindi descrivi te stessa lo specchio o fatti descrivere un'altra persona o descrivi un'altra persona obiettivamente per come è realmente senza giudizio quindi moro ho l'occhio azzurri e non è un bel moro con dei begli occhi azzurri leva obiettivo ok per quello che è ti devi dire quello che è ok io ti ringrazio per il tuo tempo e ti ringrazio per aver visto questo video ti invito se ancora non l'hai fatto ad iscriverti al canale a cliccare la campanella qua sotto a scrivere nei commenti cosa pensi di questo video se ti piace se ti è tornato utile e tante altre cose comunque inerente al video ma ti invito caldamente ad iscriverti al canale telegram che troverai sempre qua sotto stiamo crescendo man mano condivido video film che comunque mi hanno fatto crescere e tra un po' comincerò a condividere anche come guadagno tramite criptovalute se anche te sei interessato o interessato ti invito caldamente ad iscriverti al gruppo poi metterò anche dei video su youtube però diciamo che vorrei darlo a persone un po' più ristrette che comunque hanno fatto azione sono iscritti al canale e credono un pochino in me che dire io ti ringrazio veramente tanto ti auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo alla prossima mi raccomando fammi sapere nei commenti qua sotto cosa pensi di questo video ciao grazie 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 ancora per aver visualizzato questo video e per il tuo tempo se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale e a cliccare nella campanella qua sotto e a scrivere nei commenti cosa pensi di questo video se l'hai trovato interessante se ti ha fatto venire dei dubbi perché perché io voglio farti venire i dubbi perché i dubbi portano alla curiosità e la curiosità porta alla conoscenza questo te lo dico perché per mia esperienza personale l'ho vissuto circa due anni fa quando mi sentivo un po' perso un po' dato da questo periodo un po' strano e non sapevo sinceramente dove andare e grazie a Business Inbox Italia mi ha dato una spinta nella conoscenza mi ha dato una spinta di cominciare a farmi un lavoro da casa lavorando online come digital marketer e anche fortunatamente mi ha fatto scoprire il mondo delle criptovalute e tante 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 altre cose se anche te sei interessato clicca nel link qui sotto sul webinar però non è questa la sede per parlarne la cosa più importante che mi preme tantissimo è che tu piano piano cominci ad aprire gli occhi e a capire che questo mondo è pienissimo di informazioni è pienissimo di di concetti di strategie ma soprattutto è pieno pieno di conoscenza l'informazione è l'oro è la moneta di questo mondo che sta completamente evolvendo alla velocità della luce quindi entra nel gruppo telegram che troverai il link qua sotto lì se hai direttamente a contatto con me e con altri ragazzi del canale lì posto film che mi hanno aiutato alla crescita posto informazioni posto tutto quello che a me è servito per crescere per migliorare le informazioni che per me valgono veramente oro sei direttamente a contatto con noi se vorrai iscrivermi non c'è problemi io ti rispondo appena alla disponibilità cerco sempre di aiutare le persone che hanno bisogno e che mi chiedono una mano senza nessun tipo di problema senza nessun limite di tempo tranquillamente anzi è una cosa che adoro fare quindi iscriviti al canale e trova il link qua sotto non rimanere indietro stai sempre sul pezzo cerca sempre di aggiornarti e cerca sempre nuove informazioni ogni giorno perché questo è la base per l'evoluzione personale è la base per migliorare la tua vita è la base per migliorare te stesso perlomeno secondo la mia esperienza e secondo cosa sto vivendo io ti ringrazio ancora per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima e non vedo l'ora ciao ciao